L'Alto Garda si apre all'innovativo metodo educativo Montessori. Alla guida del suo presidente, Cristian Torboli, l'associazione ha ufficializzato l'apertura d'arco di una scuola Montessori, infanzia e primaria, per il momento di tipo privato e parentale, per bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni, della scuola materna e della prima classe di primaria. A partire da settembre ospiterà la nuova scuola, un edificio privato nella zona di Oltresarca, soluzione transitoria in attesa di nuovi spazi. Abbiamo preso contatti con i dirigenti scolastici della zona, che hanno dimostrato interesse al progetto, ha spiegato il presidente dell'associazione, ma siamo aperti anche ad altre soluzioni o proposte, sia private che pubbliche. Certo, l'obiettivo resta una scuola accessibile a tutti e riconosciuta dalla provincia, che per il momento ha avviato percorsi sperimentali a Trento, Rovereto e Pergine. Nel frattempo, però, abbiamo deciso di raccogliere le forze e dare avvio ad una piccola scuola parentale, organizzata però con tutti i requisiti previsti, a partire dagli insegnanti, con la supervisione di tutor formati in questo metodo. La scuola sarà finanziata dai genitori interessati, nonché tramite erogazioni e contributi. Già fissato anche l'orario di apertura della scuola, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, mentre durante il sabato, nelle vacanze e l'associazione, proporrà laboratori, corsi e serate informative. Il numero massimo di iscritti per questo primo anno è stato fissato a 16 bambini, divisi fra infanzia e primaria, e ci sono già 11 pre-iscritti. L'associazione sarà domani al Festival dell'Informazione, al cantiere 26 di Arco, dove alcuni soci saranno a disposizione nel pomeriggio per rispondere a domande e curiosità.